Buongiorno a tutti, oggi ho comprato in un mercatino un volume casualmente trovato insieme ad altri libri definiti antichi in realtà era un ammasso in forme di carta gialla, libri più o meno ordinati e appunto è sbucato questo che a me ha prodotto un'emozione particolare perché è un testo che anni fa avevo bramato, ero riuscito a trovarla in alcune biblioteche cercavo anche di farmelo prestare per riuscire a fare delle riproduzioni di delle immagini perché adesso vi faccio vedere che tipo di immagini ci sono alla fine ero riuscito forse anche a farmelo prestare alla biblioteca nazionale a Roma qui dove ce ne avevano due copie e appunto nonostante la particolare rarità dell'oggetto però effettivamente è un testo che non si trova molto facilmente neanche nelle biblioteche ed è l'Italia a Rodi pubblicato nel 1946 dall'Istituto Poligrafico dello Stato è un volume, adesso andremo a capire di che si tratta scritto in tre lingue, in italiano, in inglese e in francese fu pubblicato nell'estate del 1946 e ha un significato particolare per il quale pubblicato nel 1946 ed è in tre lingue comprensive dell'italiano, inglese e il francese e per esempio non è scritto anche in greco per esempio, ma adesso andremo a capire la storia di questo volume perché questo volume è particolarmente importante vi leggeremo anche alcuni passi per introdurre questo volume io mi avvalerò di un testo ci farà una citazione del terzo volume dell'opera titanica potremmo dire un'opera colossale di Luca Pignataro il dodecaneso italiano 1912-1947 questo è il terzo tomo terzo dei vecchi guerra e dopo guerra 1936-47-50 edito da Solfanelli questo è un volume di quasi 500 pagine io ho anche gli altri due questo è un volume pubblicato nel 2018 questo terzo tomo in realtà gli altri sono stati già pubblicati negli anni precedenti e questo va un po' a chiudere quest'opera molto complessa molto articolata molto anche completa ovviamente di Pignataro che ha dedicato numerosi studi da oltre 20 anni quindi diciamo è una ricerca fatta con grande continuità grande approfondimento ovviamente facendo degli studi molto approfonditi a a Rodi stessa e ci racconta Pignataro che diciamo che si era occupato di questo di questo volume e della genesi di questo volume sin dal 2001 aveva scritto vari articoli che appunto andavano a a sviscerare perché chi scrisse questo volume e la sua dinamica e mi avverrò appunto citerò da pagina 330-331 di questo volume che appunto ci racconta tantissimo e ci dice come appunto dopo finita la guerra le isole italiane dell'Ege ossia il Dodecaneso che erano state occupate dall'Italia sin dalla primavera del 1912 che avevano avuto una loro gestazione da stato di occupazione a stato di sovranità con tutte le procedure diplomatiche con le varie conferenze della pace dopo la prima guerra mondiale perché ovviamente l'Italia aveva sconfitto l'impero ottomano durante la guerra di Libia però poi aveva occupato queste isole attitudini di pegno per per garantire una serie di clausole armistiziali tra cui sostanzialmente l'abbandono da parte di tutte le truppe regolari e regolari in Tripolitania e in Cirenaica questo non era avvenuto quindi l'Italia aveva mantenuto l'occupazione delle isole del Dodecaneso delle esporate meridionali che poi si era protratta anche durante la prima guerra mondiale in cui l'Italia si trovava ancora di nuovo contro la Turchia in guerra e con tutto quello che ne ha seguito a seguito delle varie conferenze delle varie riunioni seguenti la prima guerra mondiale nella definizione dei confini delle attribuzioni visto che è considerato che queste isole erano reclamate dalla Grecia che aveva contribuito alla vittoria contro gli imperi centrali però anche l'Italia reclamava perché appunto nel patto di Londra veniva definita la definitiva assegnazione all'Italia con tutta una serie di problematiche che si sono protratte e che appunto poi sostanzialmente hanno attribuito le isole all'Italia e quindi negli anni 20 gli anni 30 fino alla guerra l'Italia era depositaria di una sovranità sulle isole italiane dell'Egeo appunto un possedimento che dipendeva dal ministero degli esteri a differenza di tutte le altre colonie che invece dipendevano dal ministero delle colonie tant'è che appunto il governatore delle isole italiane dell'Egeo aveva uno status diverso dai governatori delle colonie ossia Tripolitania Cirenaica Eritrea Somalia e poi dopo l'impero con la definizione nel 1936 quindi questa è la sua composizione molto articolare sappiamo come nella seconda guerra mondiale poi l'Italia ha dichiarato guerra alla Grecia e appunto con l'occupazione di anche tutte le altre isole da parte dell'asse e quindi anche della Grecia metropolitana si andava a definire una situazione molto più articolare nonostante appunto queste isole rimanevano di piena sovranità perché appunto derivavano ormai da circa da circa 30 anni sotto una diversa diversificazione una diversa alliello temporale stanzialità dell'amministrazione prima militare e poi civile dell'Italia si arrivò al 43 con l'8 settembre e l'occupazione da parte delle truppe tedesche che appunto occuparono la maggior parte delle zone oltremare che appunto erano di pertinenza dell'Italia ovviamente con degli scontri militari che più o meno ebbero possibilità di resistere da parte delle truppe italiane e quindi si proseguì due anni circa dal 43 al 45 di occupazione tedesca con l'arrivo degli inglesi nella primavera del 1945 iniziò un periodo transitorio di amministrazione militare britannica fino ad arrivare al famoso famigerato come vogliamo chiamarlo 10 febbraio del 1947 con la definizione della pace di Parigi che appunto attribui in maniera definitiva alla Grecia queste isole tra l'altro e che succede che ovviamente dal 45 al 47 vi era una situazione transitoria in cui l'Italia cercò in ogni modo di ripudiare qualsiasi velleità fascista qualsiasi tradizione coloniale fascista ci riuscì più o meno in maniera efficace sappiamo e cercò invece di andare a recuperare quel tipo di colonialismo ben accetto passatemi il termine da parte delle altre potenze che erano coloniali pure loro quindi non è che potessero reclamare tanto su delle possedimenti che erano avvenuti prima della marcia su Roma quindi vi era il tentativo sappiamo come poi vi sarà l'amministrazione fiduciaria della Somalia quindi diciamo in qualche modo questi tentativi ebbero anche la loro efficacia sul discorso del Dodecanese diciamo che c'erano pochi margini visto il consigliato che appunto la Grecia spingeva verso l'ottenimento delle isole che appunto erano in prevalenza di cultura di lingua di religione quindi diciamo erano delle diciamo una sorta di ritorno alla patria ecco diciamo era un po' enfatizzato da parte di Greci visto il consigliato che diciamo il Dodecanese non ha mai fatto parte in tempi contemporanei di uno stato greco in quanto tale visto appunto che facevano parte dell'impero ottomano dei possedimenti prima ancora dei cavalieri di quelli che sono cavalieri di Malta erano i cavalieri di Rodi quindi diciamo vi era una lunga tradizione diversa rispetto a quella di una realtà diciamo greca come riferimento Atene per capirci però ovviamente la situazione di riparazione visto che l'Italia aveva dichiarato guerra alla Grecia quindi vi era la necessità di un ripristino una punizione soprattutto dell'Italia e che succede che appunto a partire dal 1946 vi fu il tentativo di creare dei presupposti per cercare di convincere inglesi francesi e americani della bontà del possedimento della gestione pluritrentennale delle isole e quindi venne affidato a Mario Lago che era stato diplomatico di lungo corso giurittiano che era stato tra l'altro per circa dieci anni tra gli anni venti e gli anni trenta governatore civile del possedimento delle isole che conosceva molto bene la realtà era considerato un moderato una persona che veniva anche da una parte della comunità ellenofona delle isole veniva considerato grossomodo una persona per bene e quindi che in qualche modo doveva cercare appunto secondo le direttive del ministero degli esteri italiani nel 1946 di realizzare un'opera una relazione innanzitutto e poi venne trasformata in una pubblicazione vera e propria che appunto doveva in qualche modo rendere ben accetta l'Italia nel novero della comunità internazionale appunto per ottenere qualcosa o per perdere il meno possibile e nel volume di Pignataro viene citata una serie di documenti provenienti dall'archivio diplomatico del ministero degli affari esteri che appunto vanno a spiegare anche la logica anche i motivi che hanno spinto lo stesso Mario Lago a intraprendere un'opera del genere soprattutto l'importanza di non firmarla a nome suo perché come egli stesso dice appunto la relazione sulle attività italiane in Egeo era stata scritta da Mario Lago essa costituì il nucleo di una monografia pubblicata al ministero degli esteri per dimostrare l'imponenza materiale e morale dell'opera svolta dall'Italia in Egeo con il duplice scopo di lasciarne una documentazione alla storia e di contenere eventuali richieste di riparazione quindi anche un tentativo di dicere abbiamo speso abbiamo fatto tante cose in qualche modo poteste anche indennizzarci questa monografia intitolata l'Italia Rodi con testo in italiano inglese e francese e molte fotografie stampata all'istituto poligrafico dello Stato uscì nel luglio 1946 proprio alla vigilia della conferenza di Parigi senza il nome dell'autore ma in realtà fu redatta da Lago con l'aiuto del suo segretario generale Quirino Crivellari dell'archeologo Luciano Laurenzi e dell'ingegner Franco Bonetti già Benetti scusate già capo dell'ufficio turismo del governo Egeo e qui c'è una citazione di una lettera di Prunas a Lago Roma 30 giugno 45 due biglietti di Lago eccetera eccetera qui viene appunto lo stesso Vignadaro riferisce Lago chiariva di aver scritto virgolettato dello stesso Lago cercando di interpretare le intenzioni del reggio ministero se si fosse trattato di un documento firmato da me mi sarei ben guardato dall'esprimere apprezzamenti sull'opera di altri governatori invece la memoria contiene larvate sconfessioni di severità ed arbitrarietà verificatesi nel periodo immediatamente precedente alla guerra e di provvedimenti settari chiusa il virgolettato e aggiungeva apro il virgolettato farò di tutto perché la memoria su Rodi sia perfettamente anodina come redazione ed efficace ai fini che il governo si propone poi c'è una pausa un omissis che Dio protegga la nostra povera patria fine della citazione Lago psicologicamente era molto abbattuto per il crollo di tanti ideali in cui aveva creduto confronta la sua lettera eccetera 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 e quindi ci offre un interessante spaccato ma detto questo andiamo a vedere proprio questo 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 libro questo libro che come dicevo è costituito essenzialmente da una venticinquina di pagine circa per ogni lingua quindi 25 pagine di testo ripetuto tre volte e poi vi sono un apparato fotografico veramente veramente ricco guardate per cercare di presentare sotto l'aspetto artistico sotto l'aspetto edilizio sotto l'aspetto sociale sotto l'aspetto di infrastrutture un po' il discorso classico abbiamo fatto le strade abbiamo fatto le fogne diciamo una cosa interessante che a Rodi non c'era il catasto non c'era l'attività catastale credo che in Grecia sia una cosa poco proprio in Grecia in generale poco poco realizzata non esiste un catasto almeno in tempi forse l'hanno fatti in tempi recenti però Rodi fu la prima che ebbe un catasto perché appunto venne fatto dagli italiani mentre per quanto riguarda i treni arrivavano in orario non ci sono ferrovie a Rodi neanche oggi quindi diciamo questo non può essere un tormentone per nostalgi a Rodi quando c'era quando c'era il fascismo i treni arrivavano in orario non ci sono neanche ora quindi diciamo questo elemento lo possiamo archiviare senza particolare tema senza tema di smentire è interessante qui anche vedere come ci sono due cartine che vanno a riecheggiare come era Rodi nel il porto di Rodi nel 1912 quindi all'arrivo degli italiani e come era poi negli anni 30 quindi un volume veramente ricco sotto ogni punto di vista diciamo che come diceva lo stesso Vignadaro è un'opera anche di testimonianza un'opera di valore in senso di capire un po' anche per gli storici del futuro quindi come possiamo essere noi che è il punto interessante questa è la Banca d'Italia la sede da Banca d'Italia che attualmente io sono stato a Rodi circa dieci anni fa attualmente c'è la Banca di Grecia quindi è stata recuperata la funzione di questo edificio come del resto molti edifici appunto le attività ad esempio doganali le attività di una certa importanza sotto l'aspetto logistico burocratico è interessante poi ovviamente stiamo parlando di un possedimento oltremare che può essere deprecato per mille motivi indipendentemente che ci fosse poi il fascismo a partire dal 22 però diciamo che è sicuramente un episodio più o meno tragico della storia nazionale che in qualche modo questo libro vuole ovviamente con una sua finalità protomosua nel senso che non è che stava raccontando quanti eventuali crimini che erano stati fatti da qualcuno cioè era un discorso ci abbiamo fatto tante cose diciamo riconoscetecelo e non trattateci come magari i tedeschi per dire allora io adesso vi leggerei tanto come dicevo sono la parte scritta la parte diciamo di testo è relativamente breve sono circa 20 parti non ve ne leggo tutte perché poi viene ripetuta nelle tre lingue io vi leggerei il cenno storico e poi che c'era no il cenno storico vi leggo il cenno ah il cenno storico e poi le conclusioni che secondo me è interessante allora per la sua posizione geografica e per l'indole dei suoi primi abitatori l'isola di Rodi acquistò fama di potenza fin dal V secolo a.C. le tre città preelleniche Gialiso Camiro e l'Indo fondarono congiuntamente la città di Rodi nel luogo più adatto ai traffici sulla punta settentrale dell'isola trascorso meno di un secolo nel 305 a.C. la città era già così forte da porre e resistere all'attacco di colui che era chiamato per antonomasia l'eversore di città Demetrio Poliorcete gliene venne tanto prestigio da elevarsi tra i massimi stati ellenistici a commemorazione della vittoria innalzò il famoso colosso stato del dio protettore Elio di oltre 30 metri di altezza annoverata fra le sette meraviglie del mondo antico in quel tempo di libero reggimento creò le sue celebri scuole di filosofia di eloquenza e di statuaria e sviluppò la marineria così da dominare il mediterraneo orientale e poi nella discussione del cenno storico fa tutti i riferimenti all'epoca classica all'epoca medievale con il discorso dei cavalieri fino ad arrivare all'età moderna e contemporanea quindi all'occupazione all'occupazione all'ominio ottomano poi dice una nuova e sperata rinascita Rodi ebbe in seguito all'occupazione italiana e quindi qui si va a enfatizzare come il periodo ottomano fosse un periodo grigio un periodo di trascuratezza di sfascio sociale architettonico di salute quindi questo poi viene iniziato nelle fotografie come vi fosse stata la parte italiana una particolare cura nella parte di servizi anche a livello di igiene per esempio quindi avvenuta durante la guerra di Telo-Turca per la Libia il 5 maggio 1912 quindi con l'occupazione italiana secondo il trattato di pace di Rosanna del 18 ottobre 1912 le isole del Docaganeso dovevano essere restituite alla Turchia quando fosse stato ultimato il ritiro dei funzionari e delle truppe turche dalla Tripolitania e dalla Cirenaica come vi ho detto prima ma nel 15 scoppiava nuovamente la guerra e l'Italia otteneva dagli alleati col patto di Londra il riconoscimento della sua sovranità sulle isole dell'Egeo tuttavia la nessione non fu proclamata e dopo la guerra la sorte del Docaganeso tornò in discussione in relazione al regolamento delle questioni d'Oriente infine col trattato di Rosanna del 24 luglio 1923 fu definitivamente riconosciuta all'Italia la sovranità sulle esporati meridionali che divennero il possedimento delle isole italiane dell'Egeo sotto l'amministrazione italiana Rodi divenne in pochi anni uno dei centri culturali e turistici più noti del Levante con un rigoglio di opere che le fotografie qui pubblicate attestano e ovviamente qui si vuole dare questa enfasi e infatti nella trattazione del testo vi leggo i paragrafi che sono appunto opera dell'Italia a Rodi comunicazioni edilizia turismo agricoltura industria commercio cultura musei e scavi poi c'è un paragrafo sull'amministrazione italiana e poi le conclusioni e poi ci sono le illustrazioni come vi ho detto e andrei a leggere proprio le conclusioni che in qualche modo ci offrono uno spaccato e soprattutto l'obiettivo quello che dicevo di cercare di trovare una sorta di captazio benevolenzia nei confronti degli alleati e quindi è il motivo per il quale è scritto anche in inglese e in francese ma non in greco per esempio conclusione in conclusione può dirsi che Mercello Italia Rodi e le isole minori del Dodecaneso hanno goduto di un periodo di prosperità e di progresso che più non avevano conosciuto da quando nel 1522 i cavalieri gerosolimitani le avevano dovute abbandonare per l'effetto delle migliorate condizioni economiche ed igieniche tutto il tenore di vita delle popolazioni locale si è elevato ne fanno fede le stesse statistiche della mortalità il piccolo borgo di Rodi di nessuna risonanza nel 1912 abitavo da 12.000 greci turchi ed ebrei senza alcuna coesione tra loro si trovò in pochi anni trasformato in una florida città di oltre 25.000 abitanti di cui varie migliaia italiane armoniosamente conviventi armoniosamente conviventi sì in parte ecco un po' addolcito attrezzata e valorizzata divenne nota in tutto il Mediterraneo e si può dire in tutto il mondo giacché da tutto il mondo vi affluivano forestieri una cosa importante come del resto la maggior parte dei possedimenti oltremare le colonie sostanzialmente fu un pozzo senza fondo ci fu uno sperpero di soldi impressionanti vi furono degli investimenti che non sarebbero mai stati recuperati anche qualora le isole fossero rimaste all'Italia veramente vi fu un dispendio economico finanziario impressionante non necessariamente perché vi furono delle ruberie ma perché vennero spesi male nel senso che vi fu l'idea di poter realizzare a Rodi di tutto e di più un centro d'eccellenza turistico commerciale vieno tra l'altro delle garanzie delle privilegi a livello fiscale a livello economico quindi ci cercò di anche creare dell'export delle manifatture delle risorse locali che potesse il tabacco potesse l'attività ittica varie cose però diciamo che in realtà un piccolo artigianato però diciamo che poi in realtà questo fu veramente un dispendio economico per l'Italia impressionante come del resto la maggior parte dei territori oltre mare se la guerra e le passioni che essa ha sollevato hanno sconvolto cose uomini questo miracolo di resurrezione resta tuttavia tal fatto che nulla può cancellare questa frase già è tutto un programma ove si pensi che laddove al giungere dell'Italia non esisteva nemmeno una carrozza a trazione animale e le bellezze naturali e storiche erano deturpate o soffocate da una mediocrità meschina e sonnolenta ferveva invece alla vigilia della guerra in una rinnovata magnificenza di antiche memorie di nuove realizzazioni va detto anche che vi fu una sorta di attività edilizia di restauro fuori dalla grazia di Dio nel senso che c'è il castello dei cavalieri che ancora oggi è visibile che fu completamente stravolto cioè venne sostanzialmente ricreato secondo dei concetti assolutamente non rispondenti alla realtà dell'epoca un po' tipo Carcassonne per dirci veniva creato ex novo una struttura stilistica una struttura architettonica che aveva molte era una pallida aveva pallide vicinanze rispetto alle origini venne sostanzialmente ricreato ex novo senza poi un criterio adeguato alle realtà cioè appunto non venne fatto un restauro ma una ricostruzione sostanzialmente che un po' un po' stonava rispetto all'idea di poter rivivere la realtà originale era un po' posticcio ecco diciamolo un po' però ancora esiste in qualche modo sicuramente meglio così secondo me è meglio così che rovinato però si poteva curare diversamente non do giudizi di merito quindi realizzazione una vita ardente circolavano centinaia di automobili affluivano nel corso dell'anno 60.000 forestieri portati dai più lussuosi piroscafi e tra i più veloci aeroplani e prosperavano industrie e commerci si dovrà pure ammettere che l'Italia ha dato a queste isole il benessere e ha al tempo stesso offerto la misura della sua capacità creativa e organizzativa è una somma di lavoro attestata da opere permanenti e resistenti alle fortune più avverse che si impone a una seria considerazione diciamo che come dicevo è un po' pro domo sua quindi diciamo che ovviamente non si dà un giudizio così tanto obiettivo però effettivamente è una testimonianza importante anche per vedere un po' quello che si faceva a livello di diplomazia nel corso del mio 146 più a cercare di rendere più accettabile la posizione dell'Italia soprattutto appunto in zone che erano altamente contestate e in questo senso diciamo che era quasi scontato che potesse essere attribuito alla Grecia visto il consiglio che già nel 1919 20 21 era queste isole erano in procinto di essere assegnate alla Grecia e non vennero date all'epoca perché sostanzialmente i greci vennero battuti dai turchi quindi diciamo se quelle zone erano all'epoca ancora di sovranità turca era un po' difficile poterle dare alla Grecia che era stata nel frattempo sconfitta dalla Turchia quindi in qualche modo si trova una situazione salomonica in cui vennero date all'Italia perché li occupano loro e bene o male hanno vinto due guerre contro la Turchia forse quindi a livello giuridico diplomatico era più accettabile opportuno poi ovviamente stiamo parlando di cose di 100 oltre 100 anni fa poi al frattempo l'Italia la guerra l'ha persa quindi in qualche modo si è risolto il problema e diciamo che l'Italia inevitabilmente doveva perdere tutti i territori oltre mare e anche magari qualcosa ai confini propri metropolitani qui torniamo a vedere queste splendide fotografie che qui in qualche modo ci vanno a testimoniare una realtà interessante una realtà comunque da evidenziare il giudizio sulle attività oltre mare dell'Italia e nello specifico dell'Italia fascista dopo quella liberale ne abbiamo ampiamente parlato quindi diciamo non è che stiamo facendo null'altro di nuovo quindi diciamo che poi il colonialismo purtroppo l'hanno fatto quasi tutti e quindi poi alla fine il vedere come si dice a Roma il più pulito alla rogna nel senso che poi alla fine che gli inglesi potessero o i francesi potessero contestare all'Italia delle velletà coloniali un po' stride il discorso era che nel bene o nel male del 22 c'era il fascismo la guerra l'hai persa e quindi in qualche modo le isole le devi dare alla Grecia detto questo come al solito io spero di avervi allietato io sono veramente emozionato perché aver trovato questo volume per me è un grande risultato inaspettato non lo cercavo più cioè non lo cercavo più in realtà poi alla fine non l'ho mai cercato perché non sapevo che potesse essere trovato tra l'altro vi dico l'ho pagato 10 euro 10 euro ho visto che su internet lo vendono anche a 40 euro quindi diciamo però 40 euro forse non c'erano le spese più le spedizioni diciamo 10 euro ho avuto fortuna nel trovare detto questo come al solito vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao